In una tranquilla serata estiva, dalla finestra di casa sua, Claudia assiste a un brutale omicidio. Quando la polizia archivia rapidamente il caso come un regolamento di conti, lei, non convinta della versione ufficiale, decide di indagare insieme all'agente Federico, un poliziotto dal passato complicato. Delitto in una calda notte estiva è un thriller psicologico che intreccia mistero e introspezione. Claudia e Federico si addentrano in un labirinto di segreti e menzogne, scoprendo che la verità è spesso più pericolosa delle bugie. La loro ricerca li porterà attraverso vicoli oscuri e incontri inaspettati, costringendoli a confrontarsi con la diffidenza e il pericolo. Un romanzo che mostra come le apparenze possano ingannare e quanto sia complicato di svelare i segreti nascosti dietro facciate tranquille. Un racconto avvincente che vi terrà con il fiato sospeso fino a un finale sorprendente, nel quale i confini tra giustizia e vendetta si confondono irrimediabilmente. Delitto in una calda notte estiva, di Amelia Squitieri, edito da Gilgamesh Edizioni, è disponibile in tutte le librerie italiane, fisiche e online, sia in versione cartacea, sia in e-book. Anche in Amazon. Anche in Amazon.